È uno dei momenti più attesi dell'anno per i più piccoli, è il Grest estivo che si conferma anche sul nostro territorio una delle attività recreative preferite dai genitori per i loro bambini, dalla prima elementare alla terza media. Qui siamo a San Giuliano Piacentino, dove va di scena il Grest 2017 delle parrocchie di Castelvetro, guidate da Don Mauro Manica. I bambini, che sono arrivati fino a quota 270, un numero elevatissimo, arrivano da tutti i paesi limitrofi. Un successo che è frutto di un vero e proprio lavoro di gruppo. E intanto proseguono i preparativi per il grande spettacolo finale, a partire dall'eventura di sabato, sempre a San Giuliano Piacentino, dedicato alle cronache di Narnia. Un'esperienza molto coinvolgente, sicuramente per tutti i bambini, per i ragazzi. Per i grandi perché fanno un po' gli animatori, i catechisti, gli educatori. Per i genitori perché allestiscono un po' tutte le scenografie e preparano poi quella che è la festa che faremo anche sabato sera. Per cui c'è spazio per tutti, anche in cucina, per cucinare, mettere a posto, pulire, riassettare, riordinare tutto. In questo senso è un'opera che coinvolge tantissime persone. 32 gli animatori che preparano una stagione del Grest e che si alternano dalle 9 alle 18, tra punto acqua, giochi, momenti decreativi e animazione. Perché il Grest oggi non è più soltanto un modo per far passare i giorni estivi, ma è un'esigenza dei piccoli stessi, per crescere proprio nel concetto di aggregazione, per fare nuove conoscenze e per consolidare valori educativi.